In Puglia sono molto buoni i presupposti con cui inizia l'anno scolastico. 632 docenti saranno messi in ruolo, ossia tutte le missioni previste per la Regione. L'ha annunciato oggi a Bari il Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, Franco Inglese, durante la conferenza stampa di presentazione dell'anno scolastico 2013-2014. Da questo anno scolastico, a inoltre reso noto inglese, sarà istituzionalizzata l'inaugurazione ufficiale. La Terremo, ha detto, per il primo anno a Bari, poi ruoterà nelle altre città. Sarà una festa della scuola. Abbiamo portato in porto, ha sottolineato Inglese, parlando dell'inserimento in ruolo dei docenti, un concorso complesso e difficile. Siamo riusciti a garantire ai nostri docenti di avere un contratto a tempo indeterminato e percepire lo stipendio dal primo settembre prossimo. Sono 632 missioni, compresi 130 docenti di sostegno, per metà presi da concorso e per metà dalle graduatorie permanenti, che garantiranno alle scuole pugliesi una presenza continua nel tempo e che consentirà di organizzare meglio il lavoro. Entro il 31 agosto saranno pubblicate le graduatorie definitive del concorsone. Gli uffici scolastici di Bari e Foggia potranno dunque procedere all'assegnazione delle 315 cattedre previste. Entro sabato, poi, nei cinque uffici provinciali, gli aspiranti a ruolo potranno scegliere la sede di insegnamento tra quelle disponibili. Per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario, è stato spiegato nella conferenza stampa, ci saranno 333 assunzioni, facendo ricorso al recupero delle nomine. Quanto al trend delle scuole in Puglia, si registra una diminuzione di 12 istituzioni scolastiche, da 700 a 688, più due convitti nazionali, ed una situazione di sottodimensionamento in 29 istituti. La popolazione scolastica tra scuole di primo e secondo ciclo si attesta su 630.322 alunni, con classi composte mediamente da 22 componenti.